Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare la grande tradizione della simbologia cristiana, che parla del nostro incontro con Dio. Siamo in una periferia molto trafficata di Roma, eppure dietro alle mie spalle vedete una costruzione meravigliosa, importantissima. È la chiesa di Santa Sofia degli Ucraini a Roma. È una chiesa greco-cattolica. Che cosa vuol dire greco-cattolica? Vuol dire quella comunità cristiana di tradizione bizantina, dunque che ha la stessa tradizione dei nostri fratelli ortodossi, ma che riconosce il Vescovo di Roma come Papa. Ecco, dunque sono dei cristiani uniti a Roma, ma che celebrano come i cristiani ortodossi. E non solo celebrano, ma come potremo scoprire pian piano, tutta la loro arte, tutta la loro simbologia, è proprio la simbologia dei cristiani di Oriente. Nella loro lingua, in ucraino, una costruzione così, una basilica così, si chiama Sobor. E Sobor è la stessa parola che significa anche assemblea cristiana. Ed è come in italiano, chiesa significa edificio, ma significa anche comunità cristiana. Ecco, questa Sobor è stata voluta da Paolo VI già negli anni Sessanta, dopo anche aver accolto delle vittime dei gulag sovietici qua a Roma, e dal 67 al 69 è stata costruita. Adesso ascoltiamo il Vangelo di questa domenica, che è il grande annuncio delle beatitudini, allora poterlo poi commentare all'interno di questa chiesa, dove è rappresentata questa scena, è un privilegio. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. e lui si mise a parlare e insegnava loro dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Abbiamo ascoltato questo Vangelo delle Beatitudini in questa Basilica di Santa Sofia degli Ucraini. E in questo interno siamo subito colpiti dai grandi canoni bizantini. È un'architettura recente, negli anni Sessanta del Novecento, lo dicevamo. L'architetto è ucraino, le maestranze sono italiane. Ma questa architettura ha saputo riprendere i tratti fondamentali della spiritualità e della teologia dell'architettura bizantina. Il primo aspetto che colpisce tantissimo è la luce, l'oro. Ecco, siamo in uno scrigno dorato. E nella tradizione bizantina l'oro è simbolo dello sguardo di Dio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per pregare ci mettiamo sotto lo sguardo di Dio. Ed è uno sguardo fedele. L'oro è quel materiale che dura per sempre. E con l'ingresso della preghiera, come lo sfondo anche delle icone, che noi conosciamo bene. Il cristiano di Oriente, per pregare, si mette sotto questa luce divina, sotto questo sguardo divino. C'è una seconda caratteristica, è che questo oro, questa luce, si riflette in modo irregolare. Perché? Perché tutto è fatto di mosaico. Ecco, il mosaico è un'antichissima tradizione cristiana, che ha una spiritualità che risale ai testi del Nuovo Testamento, come la Gerusalemme Celeste, in cui ogni pietra rappresenta uno di noi. Perché pietra, in ebraico, suona come figlio. Dunque qua è come avere dei milioni di figli, di esseri umani, che sanno di essere figli amati, pietre preziose. Quando si fa il mosaico, si prepara la malta in modo irregolare, la malta sulla quale poi si impiantano le pietruzze, le tessere. E questo è molto diverso rispetto al mosaico classico romano, che doveva essere assolutamente liscio. No, quello bizantino, quello cristiano, è irregolare, proprio per esprimere che ciascuno di noi riflette la luce di Dio in modo diverso. Un altro tratto caratteristico, quello che vedete alle mie spalle, è l'iconostasi, che riprende il velo del Tempio di Gerusalemme. È come un velo di pudore di fronte all'intimità dell'incontro fra Dio e ciascuno di noi, che avviene sull'altare, alla discesa di Dio in mezzo a noi, sull'altare. È talmente indescrivibile, che non è che dobbiamo capirlo o carpirlo con lo sguardo, non è da possedere. È per questo questo velo che al tempo stesso è una spiegazione, una rivelazione, fatta da icone che ci mettono in cammino interiore, piuttosto che in una smania di voler capire tutto con lo sguardo o possedere con lo sguardo. C'è anche un'altra dimensione importantissima in questa architettura, in questa simbologia bizantina, la presenza di tanti santi, che non è una presenza moralistica o di esempi da imitare, ma è la loro presenza, appunto, che è importante, perché nella divina liturgia, nella tradizione bizantina, c'è la comunione dei santi. Anche per noi in Occidente questo vale. La messa è essere presente a tutti i secoli che ci hanno preceduti, a tutti i credenti, a tutta l'umanità, a tutti i santi di tutta la storia. Allora loro sono realmente presenti e rappresentati qua. In particolare in questa chiesa sono presenti anche dei martiri recenti per la storia dell'Ucraina, dei martiri, dei gulag sovietici. E poi è rappresentata in fondo, nell'abside, la Divina Sapienza. È una donna? Sì, uno potrebbe pensare, allora è la Vergine Maria? No, 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 è proprio la Divina Sapienza, che è una figura che esiste già nell'Antico Testamento, in ebraico si chiama Chokmah, vuol dire prima di tutto la capacità dell'architetto, dell'artista. Perciò le più grandi chiese della tradizione bizantina sono dedicate alla Divina Sapienza, perché la chiesa stessa è già un'espressione di quella capacità artistica, che nel fondo è l'arte di Dio, l'arte creativo o creatore di Dio. Ogni edificio sacro è un piccolo simbolo, a cominciare da Agia Sofia a Costantinopoli, a Istanbul, e poi Santa Sofia di Kiev, che è il modello per questa chiesa qua. Ecco, sono dei modi di dire che costruire l'edificio sacro è la stessa cosa che costruire l'assemblea, cioè la chiesa, formare la chiesa, con la stessa sapienza, la stessa Chokmah, la stessa Sofia, che poi si incarna in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la sapienza incarnata. Una chiesa dedicata a Agia Sofia o alla Divina Sapienza è una chiesa dedicata a Gesù Cristo. E fra gli altri episodi che in questa decorazione illustrano questa creazione continua che la sapienza di Dio fa nella storia, ebbene c'è da una parte la creazione propriamente detta del cielo e della terra, degli animali, dei monti, e di fronte esattamente l'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa domenica. Cioè questa sorta di nuova creazione che è l'annuncio del regno con le beatitudini. Siamo all'inizio del capitolo 5 di Matteo e siamo nel primo grande discorso di Gesù. Ed è straordinario la coincidenza fra la teologia di Matteo e la teologia di chi ha composto questo luogo, perché il testo di Matteo inizia con vedendo le folle. Ecco, come Gesù vede le folle? Esattamente come noi vediamo queste tessere di mosaico. Cioè, chi ha costruito questa chiesa e chi ha posto queste tessere di mosaico ci mette nella situazione di vedere l'umanità, perché ogni tessera di mosaico rappresenta un essere umano, l'umanità così come Gesù vede l'umanità. Lui vede già ciascuno di noi pieno di luce, santo, immerso nell'amore di Dio, che riflette la luce di Dio. Così, così Gesù ci vede, anzi, così Gesù ci ricrea con la sua parola, perché in effetti subito dopo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. E questo salire sulla montagna richiama Mosè, che sale sul Sinai, la prima alleanza, e evidentemente Matteo vuole presentare Gesù come il nuovo Mosè, e questo discorso sulla montagna è la nuova alleanza, è di nuovo come le tavole della legge che Mosè riceve. E il testo dice, è messosi a sedere, ecco, come la Divina Sapienza, l'essere seduto e la posizione del Maestro, nella simbologia antica. Dunque, lui è insegnante, fondamentalmente è il Maestro. È interessante notare che Gesù fondamentalmente nel Vangelo fa tre cose, insegna, guarisce e sfama, che poi sono le tre cose che la Chiesa, nella sua lunga tradizione, nei secoli, ha fatto. La Chiesa, quante scuole di insegnamento, quanto ha contributo alla cultura, la Chiesa ha fatto durante i secoli, poi guarisce quanti ospedali, quanti centri per ritrovare se stesso la Chiesa ha in tutto il mondo, e poi sfama, anche qua, proprio in queste settimane, si raccolgono proprio le offerte, gli aiuti per il popolo dell'Ucraina. Allora, quello che la Chiesa ha fatto durante i secoli è Gesù, si vede che è Gesù, che è questo insegnamento, che è questo pane donato, e che è questa guarigione. E allora, ciò che la Chiesa fa nel guarire, nell'insegnare, nello sfamare, ha senso se è un modo di dire Gesù. L'insegnamento di Gesù, in realtà, è se stesso. Dunque, le beatitudini è Gesù stesso. Dicendo, beati i poveri in spirito, Gesù sta parlando di se stesso. Le otto beatitudini sono un autorritratto di Gesù, però consegnato a noi, un autorritratto aperto. Gesù è quel povero in spirito. Questa espressione viene dal profeta Isaia. Non vuol dire povero nella testa, vuol dire povero in respiro, che non riesce più a respirare. Ed è esattamente come Gesù morirà, tra l'altro. Sulla croce, uno muore perché non riesce più a respirare. Allora, si descrive se stesso e dice a tutti quelli che non ce la fanno più, che non riescono più a respirare, che sono a corto di respiro nella vita, ecco, io sono con voi, non siete soli. Perché di voi è il regno dei cieli. Cioè, e quando tu non riesci più a respirare, non ce la fai più nella vita, che finalmente allora il Signore è Signore della tua vita. E così tutte le altre beatitudini, Lui è colui che piange, no? Beati gli afflitti, Lui piangerà su Gerusalemme, perché saranno consolati. Lì nel testo greco c'è la radice, la stessa radice che viene usata per lo Spirito Santo, perché riceveranno lo Spirito Santo. Beati i miti. I miti non sono quelli che sono un po' sdolcinati, no? I miti, tecnicamente, nell'Antico Testamento, sono coloro che non si difendono quando vengono prese le loro terre. Allora Gesù è colui che non si è difeso, e guarda caso, perché erediteranno la terra, erediteranno la terra, riceveranno tutto. ognuna di queste beatitudini è un ritratto di Gesù, e le ultime in particolare sono in questo luogo molto toccanti, no? Coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché così hanno fatto con i vostri padri, con i profeti. Allora, il martire, e i martiri che sono ricordati in questa Chiesa, questi sono i ritratti viventi di Gesù oggi. Vedremo anche come l'arte cristiana riprende temi del dono di sé, della consegna di sé, in particolare in una figura che in questi giorni ricordiamo che è San Paolo. Fra i tanti santi e martiri presenti in questa Chiesa di Santa Sofia, vogliamo concentrarci oggi in particolare su un santo importantissimo per la missione, San Paolo, il missionario, l'Apostolo delle genti, dei popoli, anche perché proprio in questa settimana scorsa abbiamo celebrato la sua conversione o preferiamo dire oggi la sua vocazione, perché insomma un ebreo che scopre Gesù di Nazareth come il proprio Messia non è che cambia religione, ma va, arriva al compimento di sé stesso, del suo cammino religioso. Allora, il primo esempio che abbiamo scelto è quello di Bruegel l'anziano, Bruegel il vecchio, che è un quadro del 1567 in cui Bruegel rappresenta la conversione o la vocazione di San Paolo quasi invisibile nel centro di un esercito enorme che possiamo immaginare siano i soldati che vanno poi con San Paolo verso Damasco per arrestare i cristiani, come è accennato negli Atti degli Apostoli, ma in questo caso Bruegel situa questo episodio all'interno del contesto delle guerre di religioni che in quel periodo devastano l'Europa. Ecco, i popoli dell'Europa in guerra e apparentemente questo evento che poi sarà così importante può essere impercettibile, può non essere osservato perché è piccolissimo nel centro del quadro. È un'immagine attualissima, chissà, oggi negli eserciti, nella guerra, nelle guerre del mondo e dell'Europa quante esperienze spirituali anche impercettibili ci sono. Un esercito che va a infilarsi in una gola senza uscita, anche questo forse molto attuale. Vediamo un'altra prospettiva totalmente diversa con Caravaggio che nel 1601 deve rappresentare la stessa scena, cioè la vocazione di San Paolo per la chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma e fa un primo tentativo con questa immagine che vediamo in cui lui si copre le mani, San Paolo cade a terra, si copre le mani perché il testo degli Atti degli Apostoli dice che rimane cieco per tre giorni. Al tempo stesso in questa prima versione Caravaggio rappresenta Cristo che è quello che è colui che ha detto a Paolo o a Saulo Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? In realtà il fatto che San Paolo si copre gli occhi è forse perché sta ricordando quel volto che lui aveva visto di quel primo martire Stefano che ha dato la vita per Gesù Cristo e gli Atti degli Apostoli ci dice che Saulo era presente in quel martirio. Allora probabilmente quell'immagine lì ha lavorato dentro di sé fino a far scoppiare il cuore di Saulo e sentire allora la voce del Cristo che lo perseguita. Siamo già in un chiaroscuro ma la seconda versione di Caravaggio ci metterà ancora di più nel buio, nel buio interiore. Questa volta siamo davvero dentro alla vicenda spirituale di Paolo in cui sembra caduto a terra come fosse un parto di un animale che nasce a terra in cui è caduto dall'alto dall'alto del cavallo e questa altezza che è anche impressionante che colpisce l'osservatore è una caduta pesantissima quella di Paolo e apre le braccia come per accogliere questa grazia questa luce che lui ancora non vede non c'è più la rappresentazione di Gesù Cristo è pura luce che San Paolo scoprirà piano piano dentro di sé. Ecco allora che forse questa vocazione di San Paolo è anche un invito per noi nei prossimi giorni a saper chiudere gli occhi nel silenzio e nell'intimità della preghiera chiudere gli occhi e chiedere al Signore questa illuminazione interiore che è la nostra vocazione. Grazie a tutti i nostri spettatori